Sì, finali dei film, dovrai dirmi come finiscono i seguenti film. Bene. Il gladiatore. Ore. Titanic. Ick. Il padrino. No. Tanto la cosa che ti rimane impressa di un film è il finale, quindi io li so tutti, qualsiasi film, grandissimo. Siamo pronti, grazie Vale. Ora Massimo, un gioco di creatività. Io ti dirò dei nomi famosi e tu dovrai creare il panino VIP per ogni personaggio. Sei pronto? Ah, improvviso gli ingredienti. Ok, grazie Vale. Allora andiamo. Bonolis. Speck. Primosale. Olive taggiasche. Pomodori secchi. Olio. Origano. Pesto di rucola. Giusto. Bello, buono. Carlo Conti. Speck. Mozzarella. Pomodoro piennolo. Olive taggiasche. Mozzarella di bufala. E pesto di olive di Gaeta. Buono, buono. Pippo Baudo. Speck. Scamorza affumicata. Olive verdi. Olio. Sale. Origano. E carciofini. Renzo Arbore. Speck. Bri. Primosale. Capperi. E tonno. Buono, senti Massimo, una curiosità, ma perché sempre lo speck? Perché era in offerta. Giusto. Giustissimo. Adesso Massimo, io ti rincherò una serie di canzoni italiane e tu dovrai trasformarle in O sole mio. Canzoni italiane che io dovrò trasformare in O sole mio. Grazie Vale, prego. Questo piccolo grande amore. O sole mio. Sapore di sale. O sole mio. Nel blu dipinto di blu. O sole mio. Chi ha fatto l'applauso per pietà? Adesso dovrai pronunciare al contrario la seguente parola. Ah, pronuncio al contrario la seguente parola, grazie. Casale. È la sac. È così però, se la legge è facile. Se no come faccio? Giustissimo. Ora dovrai rendere più importanti alcuni film di Hollywood con la tecnica dell'aumentatore. Sì perché vogliamo dirlo Valentina, Hollywood mi ha chiamato perché alcuni film erano già dei Colossi, erano già importanti e mi hanno detto Massimo rendili ancora più grandi, ancora più importanti e così li aumenterò. Prego, grazie. Il gladiatore. Il gladiatore. Via col vento. Via con l'uragano. Superman. Super superman. I dieci comandamenti. I cento comandamenti. Salvate il soldato Ryan. Salvate il generale Ryan. Benur. Molto Benur. Colazione da Tiffany. Pensione completa da Tiffany. Ora dovrai dimezzare dei film con la tecnica del dimezzatore. Grazie. E ti. E. It. Ti. Ghostbusters. Ghost. Lo sapete pure voi, bre. Rocky 4. Rocky 2. Massimo, cosa fece Buck per eludere un posto di blocco della stradale? Una fuga. No, tra l'altro Buck, insomma, mi ricorda tantissime situazioni romantiche perché pensate lui per farsi perdonare dalla moglie cosa portò? Dei fiori, famosi fiori di Buck. E poi, voglio dire una cosa, io sto bene con Buck. Chi si ricorda questa cosa? Buio. Qual è la poesia più celebre di Giovanni Pascoli? A. B. C. D. B. Vediamo? Perfetto. Anche io mi ho laureato, quindi lo so, insomma. Massimo, adesso è arrivato il momento dello show degli otto. Sì, perché io sono il più grande esperto di calcoli con il numero otto, ma prima dello show degli otto voglio mettermi alla prova facendo il super olfatto, annusando e indovinando gli oggetti, semplicemente annusandoli. Campanello. Grazie. Grazie.